Luca Baracco, siamo giunti alla quinta edizione della Fiera Agricola di Casella, Trigionate Commercio, una fiera importante che è cresciuta nel corso degli anni. Sì, una fiera importante, giunta come giustamente dicevi alla sua quinta edizione e proprio in premessa desidero ringraziare tutti coloro che collaborano per rendere possibile questo importante appuntamento ormai diventato tradizione a Casella e quindi a partire di giovani agricoltori, la libera associazione commercianti e artigiani, più tutte le altre realtà associative che collaborano per rendere questa giornata importante, bella, arricchente per tutti i cittadini di Casella e non solo. Quest'anno si è voluto aggiungere anche un valore aggiunto per così dire, quello di cercare di promuovere proprio il concetto e la conoscenza della filiera basata soprattutto appunto sulle latte e il formaggio e i prodotti legati alla filiera del Gran Turco. Questo per riscoprire sia da parte dei casellesi sia anche da coloro che vorranno venire a far visita alla nostra cittadina domenica 14 aprile prossimo, permettere di riscoprire le forti radici legate all'agricoltura del nostro territorio. Quindi un territorio che guarda sicuramente al futuro con importanti insediamenti quali il polaro spaziale e l'aeroporto, ma che al tempo stesso è fiero delle proprie radici, della propria tradizione legata al territorio. Paolo Gremo, assessore al commercio e all'agricoltura. Siete partiti 5 anni fa quasi con una scommessa per gioca organizzare questa festa. Noi 5 anni fa siamo partiti, avevamo un'esigenza, dovevamo ridare visibilità alla nostra città e siamo partiti da quel che siamo. Non possiamo dimenticarci che questo paese ha ancora il 70% di territorio a componente agricola. Da una ricerca storica nel nostro archivio, fin dai tempi del re questa comunità era stata insignita come una comunità che aveva grande capacità di produzione e grande capacità di vendita su area pubblica. Anche perché la posizione geografica aiutava in questo senso, in quanto collegamento con la zona di Chivasso e verso la Val di Lanzo. Siamo ripartiti da lì, da quello che eravamo, ma diciamo che da allora non è cambiato molto. La componente agricola e commerciale di questa comunità rimane invariata. È chiaro che andando avanti nel tempo c'è stato il coinvolgimento, perché comunque si voleva effettuare un salto di qualità, perché questa città non è solo agricoltura e commercio, così come non è solo aeroporto. In questa comunità ci sono dei valori storici, ci sono dei valori culturali, che comunque devono essere messi in evidenza proprio perché la volontà forte di tutti quelli che si prodigano giornalmente, lavorano giornalmente per far sì che quello che si vede nelle domeniche di festa sia all'immagine di Caselle, insomma deve dare la completezza di quello che è la forza della nostra comunità. Già nell'anno passato avete creato un connubio con l'Associazione Giovani Agricoltori Casellesi. Quest'anno avete voluto spingere oltre questa collaborazione portando in piazza proprio con i giovani agricoltori i prodotti della terra, da come nascono fino ad arrivare al suo tavolo dei consumatori? Due aspetti che si vedono in questi ultimi anni. Noi siamo partiti cinque anni fa basandoci sugli agricoltori esperti, perché ricordo la presenza di Giovanni Verderone, di Paolo Detti che sono agricoltori di eccellenza sul nostro territorio. Nel tempo c'è stato il passaggio di consegne, sono saliti alla ribalta il gruppo dei giovani, proprio a dimostrazione che la tradizione agricola sul nostro territorio ha una continuità, una continuità con la loro presenza che è garanzia di salvaguardia del territorio stesso. Sapere di avere una generazione di ventenni che comunque lavorerà in questo ambito vuol dire che almeno per i prossimi 40 anni tutti dormiremo un po' più tranquilli, perché se il territorio viene lasciato all'abbandono probabilmente tutta la comunità ne avrebbe dei risultati catastrofici. Avendo loro che si occupano del nostro territorio tutto sommato insomma è una garanzia di tranquillità. Andrea Venturino, presidente della Libera Associazione dei Giovani Agricoltori di Caselle, ragazzo di enorme volontà, un ragazzo che più che le parole preferisce i fatti. Lo trascino in questa intervista perché ritengo opportuno, giusto, dare visibilità a lui e a tutto il gruppo che lo sostiene perché sono veramente il braccio forte nell'organizzazione dei nostri eventi. Senza di loro qualche problemino ce l'avremmo. Come ha detto Paolo e come potete capire non sono una persona che piace tanto parlare di queste cose e preferisco i fatti. A nome di tutta l'associazione dei giovani coltivatori vi posso promettere che domenica 14 sarà una grandissima giornata per i più grandi e per i più piccoli. Se posso aggiungere un particolare quando tutti scenderemo in piazza e godremo della festa loro avranno già fatto per i casellesi una giornata di lavoro quindi per questo mi sento di ringraziarli di cuore. Luca Marchiori, presidente dell'Associazione Libera Commercianti. Ci siete partiti cinque anni fa quasi per un gioco, organizzando questa fiera per un gioco. Anno dopo anno il connubio tra agricoltura, istituzioni e commercianti diventa sempre più forte. Diventa sempre più forte, diventa sempre più forte l'impegno che tutti stanno mettendo in campo. Siamo convinti che anche quest'anno riusciremo a dare qualcosa in più rispetto alle altre manifestazioni che sono state bellissime. Quello che garantisco al pubblico è che sarà una cosa veramente interessante e divertente soprattutto per i più piccoli perché porteremo appunto a conoscere come arrivano i nostri prodotti sulle tavole. Quindi ci sarà la filiera del Gran Turco, ci sarà la mungitura, ci sarà l'allevamento del bestiame e soprattutto tanti giochi per i bambini legati ai vecchi giochi di cortile perché bisogna far riscoprire un po' le nostre tradizioni. Io voglio solo approfittarne di questo momento per ringraziare tutti quelli che si sono spesi per l'organizzazione di questa manifestazione che cercando di fare sempre quel passo in più rispetto alle precedenti porta anche a un sacrificio più grande di chi si impegna per dare un risultato ottimo quale credo sarà questa manifestazione. Nell'ambito dell'organizzazione di questi eventi dopo i fatti di Piazza San Carlo sicuramente è diventato veramente un'esigenza fondamentale, quello di garantire la sicurezza degli eventi stessi. Chiaramente noi abbiamo una grande fortuna di avere nella nostra squadra una persona che ha esperienza, che ha le qualità e le conoscenze per comunque mettere a punto dei piani di sicurezza che diano garanzia e soprattutto sonni tranquilli e all'amministrazione e agli organizzatori. Remigio Benedetto, segretario dell'Associazione Commercianti di Caselle, potrà descrivervi un attimino quelli che sono gli atti che vengono messi in campo per garantire la sicurezza stessa dei partecipanti e dei cittadini tutti. La problematica della sicurezza, come tutti sapete, dai fatti di Piazza San Carlo è diventata molto critica. Cercare di fare eventi e manifestazioni diventa sempre più difficile. Difatti mi sento in tanti malcontenti nei circondari di altri paesi che non fanno più manifestazioni. Il problema è che bisogna fare molta, ma molta attenzione, sia per la comunità, sia per eventuali atti che potrebbero recarci dei danni. Mettendomi in coda a quello che ha appena detto Remigio, mi sento di lanciare un messaggio a quelli che sono i cittadini del centro storico. Molti di loro mi rendo conto che hanno un leggero disservizio, sicuramente qualche fastidio nel momento dell'evento. Invito loro comunque a continuare ad aver pazienza nel momento della chiusura, a scendere in strada insieme a noi, a vivere l'evento stesso, perché senza questa chiusura delle strade non ci sarebbe l'evento e probabilmente vivrebbero una città veramente morta. Noi crediamo che questa nostra città abbia tutte le prerogative per essere una città viva, una città piena di iniziative. Quindi ognuno deve fare la sua parte, anche chi porta un po' di pazienza in quei giorni di chiusura partecipa all'evento ed è un nostro partner che collabora alla crescita della nostra comunità.